Buongiorno su canale 81 Lazio, la prima edizione del telegiornale. Iniziamo subito dalla cronaca dal comune di Poli, in provincia di Roma, dove ha rintracciato un uomo, il ladro, che gli aveva rubato l'auto, poi lo ha accoltellato. Vittima è carnefice, un 61enne di Colonna arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. I fatti, come detto, sono avvenuti in questo comune Poli, a nord-est della capitale, sono stati i carabinieri della locale compagnia a intervenire nel piccolo comune della provincia romana, su segnalazione di alcuni residenti. Sul posto i militari hanno accertato che l'indagato, giunto in compagnia di un altro soggetto, ha sferrato al cumine di una lite alcuni fendenti agli arti inferiori di un uomo e una donna, procurando loro lesioni personali di modesta entità. Parliamo ora di Roma. Fino a fine anno non ci saranno nuovi forni, pasticceria, laboratori artigianali e alimentari nel centro storico. Dopo ore di assemblea capitolina, convocata e sospesa, dopo riunioni di maggioranza e dei gruppi consigliari per trovare un accordo, è passata con 31 voti a favore e 3 astenuti la delibera 82. L'assemblea capitolina, convocata originariamente dalle 11 alle 18, ha votato quindi un allungamento dei tempi ad oltranza per dare il via libera al testo, visto che il 31 maggio scade un precedente atto varato dall'amministrazione Raggi, che impediva per tre anni nel sito UNESCO di Roma l'apertura di nuove attività di vicinato, di artigianato alimentare e di altre imprese, come i negozi di souvenir. Un milione di euro è quanto ha stanziato ieri la Camera di Commercio di Roma a favore delle imprese colpite dall'alluvione che ha devastato il territorio dell'Emilia Romagna, in particolare delle province di Bologna, Forlice Sena e Ravenna. Un contributo che le imprese di Roma, tramite la Camera di Commercio, hanno deciso di devolvere per venire incontro alle emergenze dovute alle devastazioni provocate dall'alluvione nei giorni scorsi. Un sostegno frutto della vicinanza a un territorio verso il quale le imprese di Roma e i romani in generale sono legati da stretti legami storici, culturali e sociali. Le risorse saranno destinate a realizzare specifici progetti di intervento, iniziative a favore delle attività produttive, in collaborazione con le Camere di Commercio di Bologna, della Romagna e di Ferrara e Ravenna, nella misura di un terzo ciascuna. Sull'energia a Terna punta anche su Montalto di Castro e quanto è emerso durante l'incontro di ieri alla Pisana tra l'azienda che gestisce la rete elettrica in Italia e la Regione Lazio per la presentazione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale 2023-2032. Tra le novità rientra il collegamento a 500 kV in corrente continua Milano-Montalto di Castro. Permetterà, spiega Terna, di bilanciare i transiti tra il Lazio e la Toscana trasferendo in sicurezza il surplus di energia del centro verso le regioni del nord. Montalto sarà interessata anche dal collegamento sottomarito di 1000 MW di potenza Sardegna-Penisola Italiana che collegherà l'isola al resto dello stivale favorendo lo sviluppo delle energie rinnovabili. Lo spettacolo dell'Arena del Colosseo che si apre come un sipario davanti agli occhi man mano che si guadagna quota è di quelli che lasciano a bocca aperta. Per vederlo basta salire sull'ascensore nuovo di Zecca che collega da ora il primo ordine dell'Anfiteatro Flavio alla galleria intermedia tra secondo e terzo ordine. Un percorso di fruizione e accessibilità all'interno del monumento più iconico di Roma nel mondo inaugurato sulle note di alcuni brani eseguiti dall'Orchestra Italiana del Cinema che dopo un concerto a scopo benefico nel Colosseo del 2018 si è impegnata a finanziare un ascensore che potesse portare le persone con difficoltà motorie fino alla galleria e facilitare chiunque a colmare l'importante dislivello. Piena accessibilità che sarà uno dei principali obiettivi dell'Anfiteatro Flavio per tutto il 2023. Parliamo ora del giorno della finale di Europa League tra Roma e Siviglia. Alla Puskas Arena di Budapest la Roma si gioca tutto contro il Siviglia la possibilità di conquistare il suo secondo titolo europeo consecutivo dopo la Conference League del 2022. Stavolta in paglio c'è la più prestigiosa Europa League e il secondo livello continentale dopo la Champions. Sono almeno 20.000 tifosi romanisti in arrivo nella capitale ungherese. I primi sono arrivati già nella giornata di ieri, altri sono attesi in mattinata. Per chi non ha potuto regarsi a Budapest ci sono diversi mazzi schermi. I più gettonati si è installati allo Stadio Olimpico per cui è arrivato ancora una volta un tutto esaurito. Ci sono anche almeno altri tre grandi luoghi in cui saranno installati i mazzi schermi nella capitale. Questa è l'ultima notizia per questa prima edizione. Appuntamento con gli aggiornamenti nelle prossime ore.